Non si placano le tensioni sul futuro del CONAMI, il consorzio di 23 comuni che ha in mano la gestione dei servizi sul territorio. Dopo le dimissioni di Stefania Forte, il CONAMI è privo di un presidente e occorre riformare l'intero CDA. C'è poi la partita relativa all'approvazione del bilancio 2018 che per il comune di Imola rappresenta la priorità. Proprio su questo, nel corso dell'ultima riunione che si è svolta sabato 15 giugno, si è consumato l'ennesimo strappo. Sabato mattina, su richiesta di nove sindaci, è stata convocata la riunione dei soci del CONAMI. Il comune di Imola, essendo presidente del tavolo dei soci del CONAMI, ha organizzato un ordine del giorno mettendo al primo posto il bilancio, poi il presidente e infine i membri del CDA del CONAMI. Alcuni sindaci hanno chiesto le versioni all'ordine del giorno mettendo il CDA e infine il bilancio. Questa loro proposta non è passata a maggioranza e purtroppo i sindaci hanno abbandonato il tavolo di confronto dove purtroppo non si è potuto votare nemmeno il progetto di bilancio. Questo per noi è un fatto molto grave perché la priorità deve averlo assolutamente il bilancio del CONAMI che è un ente pubblico, è un consorzio pubblico e non si può assolutamente trattare così, parlare solamente di poltrone e non di bilancio. Questo fatto secondo noi è molto grave. A breve sarà convocata un'altra riunione dove si metterà al primo punto il bilancio e a seguire la nomina del presidente e dei membri dei consigli di amministrazione del CONAMI. Sulla questione il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi ha scritto una dura lettera aperta alla prima cittadina di Imola, Manuela San Giorgi, parlando di un'incapacità di mediazione politica che ha portato allo stallo sul CONAMI e al rischio di commissariamento.